Ciao a tutti ragazzi, io sono Vanessa e oggi andremo ad analizzare la pista nella quale si svolgerà il ventunesimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Arabia Saudita, Jeddah. È una pista nuova, recentemente terminata, e proprio il fatto che abbiano terminato la sua costruzione, l'asfalto e tutto il resto proprio pochi giorni fa non è un fattore da sottovalutare, però ne parleremo in maniera più approfondita nel corso del video. Jeddah è una pista che presenta 27 curve e qui chiunque senza vedere il layout potrebbe dire wow allora è una pista lentissima, e no, è la pista nella quale con molta probabilità, anzi con un'assoluta certezza, si registrerà il giro con la velocità media più elevata della storia della Formula 1. Infatti delle 27 curve che è presente nel circuito di Jeddah possiamo andare a definire solo 3 di queste come curve lente o quasi, ovvero curva 1 e le seguenti 2 e 3, curva 13 e curva 27, l'ultima curva. Solo curva 1, 2 e 3 sono delle curve realmente, possiamo dire, lente? Curva 13 e 27 invece vengono affrontate, vinta a quarta marcia, a una velocità minima di 150 km orari, quindi tanto lente non sono. E proprio il fatto che queste siano le curve più lente del circuito fa capire come possono essere tutte le altre. Infatti dopo curva 4 si assiste a una serie di curve veloci che ricordano molto lo snake del Messico, del secondo settore. E tutta la pista è così, un susseguirsi di rettelinei, zone di RS, ce ne sono presenti ben 3, e curve rapidissime, in rapidissima successione l'una dall'altra, da affrontare in sesta, settima marcia, senza andare a toccare il freno quasi, ma sfruttando semplicemente il freno motore, cioè scalando una marcia, senza frenare, è sfruttare il freno automatico che il motore stesso genera quando si va a scalare una marcia. Molti considerano Jedda come una pista pro Mercedes, proprio a causa dell'alta velocità che si andrà a sprigionare nel corso del giro. Però io non ne sarei tanto sicura. Se vi ricordate in Messico, proprio nello snake, nel secondo settore, Stappen era il più veloce di tutti. Cioè era l'unico in grado di fare quella serie di curve veloci in maniera perfetta, grazie alla precisione che Red Bull ha avuto per tutta la stagione. Però c'è anche da considerare il fatto che ci saranno ben 3 zone di RS, quindi Mercedes, ciò che magari perderà nelle curve veloci, potrebbe andare a compensare sul dritto. Quindi io non direi con assoluta certezza che questa è una pista pro Mercedes, ma secondo me Mercedes e Red Bull se la giocheranno al millesimo. C'è da considerare anche il fatto che comunque Hamilton arriverà a Jedda con un motore che ha utilizzato solo in Brasile, mentre Versailles arriverà con un motore alla settima gara. E come dicevo prima, è una pista che è stata terminata pochi giorni fa, quindi sarà una pista molto sporca. Inoltre l'asfalto, come ben sapete, ha bisogno di qualche giorno, qualche settimana per poter rilasciare tutti i liquidi, gli oli dell'asfalto stesso. C'è da considerare anche che di contorno alla Formula 1 ci sarà la Formula 2, che sarà la prima categoria a scendere in pista al venerdì, con l'unica sessione di prove libere appunto della Formula 2. Le monoposte di Formula 2 quindi aiuteranno sicuramente a pulire la pista, a renderla un po' meno green, a gommarla un po', però resta pur sempre un circuito che è stato asfaltato, è stato creato da zero, ed è stato ultimato solo pochi giorni fa. Ma il vero problema del circuito, secondo me, è la sicurezza. Ho trattato questo argomento su TikTok e tanti mi hanno scritto, vabbè, ma se la FIA l'ha omologato vuol dire che sono sicuri. Certo, è vero. Ricordo che Imole è stata fuori dal calendario per tantissimi anni perché non era considerata una pista sicura. Sono state poi apportate delle modifiche e adesso è di nuovo entrata in calendario. A Spa sono andati a modificare la curva più storica e più iconica della Formula 1, cioè l'Hourouge, abbattendo addirittura le casette a bordo pista e andando un po' a migliorare la via di fuga proprio dell'Hourouge, a seguito dei grossi incidenti che ci sono stati negli ultimi anni. Ok, è tutto giusto perché la sicurezza nel motosport deve venire prima di ogni cosa. Però chi ha corso a Jedda nel videogioco o chi ha comunque visto video, simulatori, simulazioni e robe varie su internet, ha potuto notare che è una pista praticamente cieca. Cioè tu entri in una curva cieca, esci da questa curva e subito dopo vai a effettuare un'altra curva cieca. Cieca nel senso che la pista è molto stretta, le curve sono ravvicinate l'une con le altre e quindi il muretto che hai davanti durante l'approccio della curva non ti permette di vedere oltre la curva stessa. Quindi tu non sai se c'è qualcuno fermo in pista, se qualcuno si è girato, se qualcuno ha avuto un problema. E il box non ha il tempo materiale di avvisarti perché tu entri a oltre 250 km orari in ogni singola curva del circuito. Sono 27 curve, escluse le prime tre, esclusi i due tornantini, ne restano 22. E quindi si rischia seriamente di incappare in quella che è la situazione più tragica e più drammatica nel motorsport. Cioè quando qualcuno resta in pista, come è stato nel caso di Hubert a Spa o sempre a Spa nel campionato GT. E inoltre non bisogna escludere nemmeno la qualifica perché secondo me ci potremmo trovare in un caso simile a quello accaduto fra Tsunoda e Perez in Messico, dove Perez ha trovato Tsunoda che era un giro lento. Tsunoda ha fatto di tutto per spostarsi ma la pista era quella, Perez è stato distratto da Tsunoda e ha abortito il giro. Ancora di più questa cosa potrebbe verificarsi a Jedda perché la pista è più stretta, è più veloce ed è più cieca. In ogni caso spero ovviamente che non succeda nulla, spero che Lewis vinca col giro veloce e che Max faccia secondo così da arrivare ad Abu Dhabi con entrambi a pari punti e poterci godere questo mondiale fino all'ultima curva. Vi ringrazio per la visione, vi invito a seguirmi nei miei social e ci vediamo al prossimo video. Ciao!